questo posto ti divora mostra chi siamo davvero giocatori benvenuti nel bunker game un gioco di ruolo innovativo che non dimenticherete mai attori i nostri giocatori aspettano va bene dobbiamo andarcene non si può giocare in assisti nel bunker senza giocatori tu non vieni devo aiutare a rimettere a posto il gioco non è finito dov'è gregorio è strano che non sia qui c'è qualcuno la cred mi sento sempre osservata in questo bunker forse c'è sfuggito qualcosa e se il gioco non fosse finito il gioco finisce ora a